17 omicidi ed un tentato omicidio, una serie impressionante di delitti rimasti finora irrisolti che tratteggiano le spietate logiche di Cosa Nostra attuate per il ferreo controllo del territorio nell'Interlande di Barcellona e per la risoluzione dei conflitti interni mediante l'eliminazione di personaggi ritenuti scomodi o inaffidabili. L'inchiesta GOTA6, coordinata dal procuratore della Repubblica Guidolo Forte e dai sostituti Vito Di Giorgio e Angelo Cavallo, ha consentito dunque di individuarne gli autori e ricostruirne movente e modalità esecutive. La lunga guerra di mafia cominciò il 4 giugno del 1993 con il triplice omicidio di Sergio Raimondi, Giuseppe Martino e Giuseppe Geraci. I tre furono freddati a Barcellona per aver commesso furti sul territorio senza permesso. Pochi giorni dopo, il 24 luglio, la punizione toccò a Domenico Pelleriti, ucciso a Termevigliatore, sospettato di una serie di furti ai danni di un esercizio di vendita di ceramiche, il cui titolare si rivolse al boss Gullotti. Sempre a Termevigliatore, il 2 febbraio 1995 fu ucciso Salvatore da Campo, sospettato di aver fornito ai carabinieri indicazioni sul nascondiglio di Antonino Calderone. Nel fascicolo di GOTA6 sono quindi finiti gli omicidi di Falcone tra l'aprile 95 e il marzo 96, le vittime Carmelo Grasso e Felice Iannello. A Santa Lucia del Mela il 1 luglio 98 fu ucciso Fortunato Ficarra. Il 19 agosto 1998 la punizione toccò invece a Mario Milici per aver trattenuto proventi di estorsioni e gioco d'azzardo. I killer lo freddarono a Barcellona. Nella città del Longano il 3 maggio 1999 l'efferato delitto di Antonino Sboto fu ucciso e gli furono amputate le mani per furti non autorizzati dai vertici, uno dei quali ai danni della sorella di un esponente del sodalizio. Il regolamento di Conti insanguinò quindi le strade di Barcellona il 29 settembre 98 con l'omicidio di Giovanni Catalfamo, poi il 4 giugno 2001 toccò a Domenico Tramontana, il 15 gennaio 2009 a Carmelo De Pasquale. Erano accusati di tramare per l'eliminazione di Carmelo Bisognano e Carmelo D'Amico. Sempre a Barcellona il 1 dicembre 2012 fu ucciso Giovanni Isgro. Ricostruiti infine l'omicidio di Giovanni Di Paola il 6 ottobre 1995 allo svincolo autostradale di Brolo, quello di Nunziato Mazzufre dato ad Oliveri nel dicembre 2005 e l'agguato in cui fu ucciso a Milazzo Carmelo Mazza. Nel lungo elenco dei fatti di sangue c'è anche il tentato omicidio di Carmelo Giambò il 3 marzo 2011 a Barcellona. I killer spararono diversi colpi contro la sua autovettura ma l'uomo riuscì a scappare e trovò rifugio alla caserma dei carabinieri.